I registi e attori Joe Dante, Mick Garris, Philip Groening, Roger Auer, Paolo Taviani e Michel Ocelot saranno tra i protagonisti del Lucca Film Festival d'Europa Cinema 2019, la manifestazione cinematografica internazionale che si svolgerà dal 13 al 21 aprile in vari luoghi delle città di Lucca e Viareggio, uno degli eventi di punta della Fondazione Cassa degli Sparmi di Lucca. Il festival racconterà la carriera delle star presenti con un omaggio cinematografico, proiezioni e con la tradizionale Masterclass, momento unico che mette in relazione gli appassionati cinefili e non solo con le star del cinema mondiale. Lucca Film Festival Europa Cinema 2019, 13 e 21 aprile, grandi ospiti internazionali, concorsi di lungometraggi e cortometraggi, mostre, eventi dal vivo, un festival che quest'anno veramente è diventato un festival fra i più importanti a livello europeo e è veramente un piacere rilanciare anche la parte di Viareggio Europa Cinema grazie agli amici della Fondazione Robert F. Kennedy. Avremo grandissimi ospiti come Ruth Gerauer, come Philip Groening, come Joe Dante e avremo soprattutto un evento dal vivo unico. Ricordatevi, Los Angeles 2019, Blade Runner e Ruth Gerauer torna apposta per questo. Il ricco cartellone sarà così diviso, il concorso internazionale di lungometraggi con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, le anteprime fuori concorso, i film spettacolari per il grande pubblico in prima italiana che usciranno nei cinema italiani e il consueto appuntamento con il concorso internazionale di cortometraggi. Protagonisti anche l'arte con due mostre a tema, omaggio a Taviani e a Kubrick e gli eventi performativi con effetto Cinema Notte, la sezione che animerà il tappeto rosso durante il festival e organizzerà lo straordinario evento omaggio a Blade Runner 2019. Nel ricco cartellone anche la sezione educational dedicata alle scuole e una dedicata alle videoarte con il festival internazionale dal titolo Over the Real. L'edizione 2019 vede il protagonista Europa Cinema a Viareggio con un programma interamente dedicato ai diritti umani e particolare attenzione ai diritti di genere dal 14 al 17 aprile, curato dalla regista Barbara Cupisti e da Robert F. Gerald Kennedy Human Rights Italia con la collaborazione del Comune di Viareggio.